Ciao ragazzi, come avete detto dal titolo, il video più aspettato del mio canale è arrivato, come avere Boosteroid completamente gratis per PC. Ragazzi, le cose sono molto semplici, basterà aprire YouTube appunto se lo state guardando già dal PC, siete affantati. Dovete aprire questo video dal PC e andare nel link in descrizione dove appunto lo metto all'inizio o alla fine della descrizione il link per appunto fare questa cosa. Dopo aver cliccato lo scaricate e Blowstacks, chi non sapesse che cos'è, è praticamente una piattaforma dove fai finta di essere dal telefono sul computer. Cliccando quel link tra l'altro mi stenderà automaticamente lo start, che poi se volete lo potete eliminare. Dopo aver fatto questo ragazzi, fate lo stesso identico procedimento dello scorso video. Scaricate UFO, UFO VPN Basic perché serve. Ho visto dei commenti dove dicevano che non serve, in realtà serve perché quell'applicazione funziona solo se fate finta di essere in America. Quindi ragazzi, basta fare lo stesso procedimento. Se ancora non avete visto quel video, andate subito a subito a vederlo. Si chiama Come avere Bustanoid completamente gratis. Andatevelo a riprendere perché è molto importante. Quindi ragazzi, io vi lascio così. È da molto semplice. Voglio arrivare almeno ai 15 like per questo video. Ciao! Ciao!